Ora analizziamo le rappresentazioni grafiche per descrivere variabili categoriche. Allora, la prima rappresentazione che possiamo vedere è la distribuzione per frequenze. La distribuzione per frequenza è una tabella che viene adoperata per organizzare i dati, dove la colonna di sinistra contiene le modalità o le classi di misura. Quindi in questo caso possiamo vedere il settore di attività delle imprese. Invece, per quanto riguarda la colonna di destra, contiene l'elenco di frequenze, quindi il numero di osservazioni per ogni classe. E in questo caso possiamo vedere il numero delle aziende. Analizziamo il diagramma barre e il diagramma torte. Il diagramma barre ha lo scopo di attirare l'attenzione sulla frequenza di ogni categoria, Mentre, per quanto riguarda il diagramma torta, ha lo scopo di sottolineare la proporzione di ogni categoria. Come accennato precedentemente, ora analizziamo le rappresentazioni grafiche per descrivere le variabili numeriche. Ora analizziamo le distribuzioni delle frequenze. Allora, in questo caso dobbiamo sempre rappresentare una tabella. Per quanto riguarda gli elementi da inserire, sono uguali alla tabella di distribuzione per frequenze per variabili categorie, che solo che cambiano tre cose. E queste le troviamo tramite quelle che io vi ho definito regole. Nel primo caso dobbiamo determinare K, ovvero il numero di classi di intervallo, che si decide in modo arbitrario. Successivamente bisogna capire qual è l'ampiezza dell'intervallo. L'ampiezza dell'intervallo si ottiene dalla differenza tra valore massimo meno valore minimo fratto il numero di classi. Poi, per quanto riguarda l'ultima cosa da fare, ovvero la regola numero 3, le classi di intervallo devono essere collettivamente esaustive e mutuamente esclusive. Frequenze accumulate e frequenze relative accumulate. Per frequenze accumulate intendiamo il numero totale di osservazioni, con valori minori dei limiti superiori di ciascuna classe. Per quanto riguarda frequenze relative accumulate, sono ottenute dividendo ciascuna frequenza per il numero complessivo di osservazioni, moltiplicando la proporzione risultata per 100. Così si ottiene la distribuzione delle frequenze percentuali. Logiva. Logiva viene anche chiamata curva delle frequenze accumulate e una spezzata che rappresenta la distribuzione delle frequenze percentuali accumulate. L'istogramma è un grafico composto da rettangoli verticali adiacenti costruiti su una linea orizzontale sulla quale sono delimitate le stesse classi di intervallo individuate nella distribuzione di frequenze. L'area del rettangolo è proporzionale al numero di osservazioni della classe corrispondente. L'altezza di ciascun rettangolo è proporzionale al numero di classi di osservazione. Diagramma dispersione Determina la relazione tra due variabili. È possibile preparare un diagramma dispersione associando un punto del piano cartesiano a ogni copia di valori che costituiscono un'osservazione congiunta delle due variabili. Il diagramma di dispersione fornisce una particolare descrizione dei dati e in particolare evidenzia i possibili valori di ogni variabile, la distribuzione dei dati all'interno dei valori possibili, l'eventuale relazione tra le due variabili e la presenza di eventuali valori anomali, ovvero outlier. Misure di tendenza centrale Tra queste misure troviamo sicuramente la media aritmetica, la mediana e la moda. Allora, per media aritmetica la otteniamo facendo la somma di tutte le osservazioni diviso per il numero di osservazioni totale. Per quanto riguarda la mediana viene indicato come il valore centrale. Bisogna stare molto attenti quando si calcola la mediana perché nel caso di un numero di osservazioni pari, quindi abbiamo 4 osservazioni, la mediana sarà la posizione 2. Mentre per quanto riguarda il caso di 5 osservazioni, quindi un numero dispari, la mediana si trova all'interno della posizione 0.50 più 1. Quindi, nel caso di 5 osservazioni, la posizione centrale sarà la terza. Per quanto riguarda la moda, non è altro che l'insieme di osservazioni che si verifica il maggior numero di volte. Misure di variabilità Anche se i due insiemi di dati possono avere la stessa media, le singole osservazioni del primo insieme possono variare di più della media di quanto non facciano quelle del secondo insieme. Quindi, per evitare queste variazioni, vengono adoperate le misure di variabilità. Allora, la prima misura di variabilità che analizziamo è la differenza interquartile, che questa misura la variabilità del 50% centrale dei dati in una sequenza di osservazioni ordinate in modo crescente è la differenza tra l'osservazione del terzo quartile, ovvero il 75% e l'osservazione del quantile numero 1, ovvero del primo quartile, che sta nella posizione del 25% quindi la differenza interquartile si ottiene dalla differenza tra il terzo quartile meno il primo quartile. Un'altra misura di variabilità sono i cinque numeri di sintesi e si riferiscono al minimo, quindi il valore più piccolo, al primo quartile, alla mediana, al terzo quartile e al massimo. Varianza e scarto quadratico medio Varianza della popolazione è la somma delle differenze al quadrato tra ciascuna osservazione e la media della popolazione divisa per la dimensione della popolazione n. La varianza campionaria è invece la somma delle differenze al quadrato tra ciascuna osservazione e la media del campione divisa per la dimensione del campione n-1. Quando parliamo di scarto quadratico medio, esistono due tipi di indice. Parliamo di scarto quadratico medio della popolazione ed è indicata dalla radice quadrata con segno positivo della varianza della popolazione ed è definita dalla seconda formula che trovate sotto. Quindi, deviazione standard. Per quanto riguarda invece lo scarto quadratico medio campionario è uguale allo scarto quadratico medio della popolazione solo che ha la differenza al denominatore di avere n, ovvero la dimensione della popolazione, meno 1. Se no, risulterebbe lo stesso risultato e sappiamo benissimo che intercorre una differenza tra campione e popolazione. La disuguaglianza di cevice. Per ogni popolazione con una media m e uno scarto quadratico medio esiste almeno un minimo di percentuale che appartengono all'intervallo. La regola empirica. Per molte popolazioni di grandi dimensioni la regola empirica fornisce una valutazione della percentuale approssimata di osservazioni in cui lo scostamento in più o in meno della media pari al massimo a una o tre volte lo scarto quadratico medio. Approssimativamente il 68% delle osservazioni sono nell'intervallo media più o meno uno sigma. approssimativamente il 95% delle osservazioni sono nell'intervallo media più o meno due volte sigma. Quasi tutte le osservazioni, ovvero 99,73%, sono nell'intervallo mu più o meno sigma, tre sigma. Il coefficiente di variazione è un indicatore statistico di dispersione relativa, ovvero che indica la variabilità di un fenomeno in termini percentuali. Questo viene calcolato come il rapporto della deviazione standard e la media della distribuzione. Misure di relazioni tra variabili. In questo caso troviamo la covarianza e il coefficiente di correlazione lineare. Per covarianza forniamo la misura di quanto le due variabili variano insieme. In questo caso si valuta proprio la dipendenza che intercorre tra due variabili. Successivamente si parla del coefficiente di correlazioni lineare e questo esprime un'eventuale relazione di linearità, scusate, tra esse. E questo può assumere un valore che è compreso tra un intervallo che va da meno uno a più uno, dove se il valore che assumiamo è molto vicino a meno uno, in questo caso si parlerà di una relazione negativa. Mentre più vicino è a più uno e si parlerà maggiormente di relazione positiva. Comunque nella prossima slide spiegheremo meglio questo argomento. Quando si parla di relazioni lineare bisogna valutare attentamente il tipo di relazione con il quale si ha a che fare e questa può essere di due tipi, quindi una relazione di tipo lineare e una relazione di tipo non lineare. Una relazione di tipo lineare è rappresentata su assi cartesiane e si avvicina alla forma di una retta. In questo caso, all'aumentare di x aumenta anche y, quindi nel caso di una relazione di tipo lineare all'aumentare dell'una aumenta anche l'altra. In questo caso siamo in presenza di un coefficiente di correlazione 1 o vicino a 1. Successivamente, siamo in presenza di una relazione del tipo non lineare se questa è rappresentata su assi cartesiani ha un andamento del tipo curvilineo, quindi una parabola o un iperbole. In questo caso, a livelli bassi e alti di x corrispondono livelli bassi di y, mentre a livelli intermedi di x corrispondono livelli alti di y. Qui vi ho voluto mettere una rappresentazione grafica di relazioni lineare e una rappresentazione grafica di relazioni non lineare. Infatti, come possiamo vedere, la relazione lineare, quindi quella che troviamo a sinistra, i punti si concentrano proprio maggiormente vicino alla retta. Infatti, questi proprio sembrano che formino una retta. Invece, se volessimo vedere l'altro esempio di relazioni non lineare, i punti sono concentrati tutti sotto e sembrano proprio che danno vita a una sorta di parabola o iperbole. Dipende sempre da come sono posizionati i punti all'interno del piano. Definizioni utili per il calcolo delle probabilità. Per esperimento aleatorio si intende un processo che porta due o più risultati senza sapere quello che si realizzerà. Per spazio campionario intendiamo i possibili risultati di un esperimento casuale e sono chiamati eventi elementari e l'insieme degli eventi elementari è chiamato spazio campionario. Eventi. Per eventi intendiamo qualsiasi sotto insieme di eventi elementari di uno spazio campionario. Un evento si verifica quando il risultato dell'esperimento casuale è uno degli eventi elementari che lo costituiscono. Poi possiamo avere l'evento impossibile che rappresenta l'assenza di eventi elementari ed è indicato con l'insieme vuoto. L'evento, certo, è rappresentato da tutti gli eventi elementari ed è lo stesso S, ovvero lo spazio campionario. Intersezione di eventi Si hanno A e B, due eventi dello spazio campionario S. La loro intersezione è rappresentata da tutti gli elementi di S che appartengono sia A e B e la loro intersezione si verifica se e solo se si verificano sia A e B. Eventi mutuamente esclusivi. Se gli eventi A e B non hanno in comune alcuni eventi elementari sono detti mutuamente esclusivi o incompatibili, quindi la loro intersezione è rappresentata dall'evento impossibile. Unione di eventi Si hanno A e B due eventi dello spazio campionario S, la loro unione è l'insieme di tutti gli eventi elementari di S che appartengono ad almeno uno dei due eventi. Eventi complementari Si ha A un evento dello spazio campionario S. L'insieme degli eventi elementari appartenenti a S, ovvero lo spazio campionario ma non ad A, viene indicato evento complementari di A. Elementi collettivamente esaustivi. Gli eventi complementari contenuti nello spazio campionario costituiscono un insieme di eventi mutuamente esclusivi e collettivamente esaustivi. La probabilità e i suoi assiomi Supponiamo di dover effettuare un esperimento casuale e di voler determinare la probabilità che un particolare evento si manifesti. La probabilità è misurata in un intervallo da 0 a 1. In un valore pari a 0 indica che l'evento non si verificherà quindi siamo in presenza di un evento impossibile e un valore pari a 1 indica che l'evento si verificherà sicuramente quindi parliamo di un evento certo. Siamo interessati ad assegnare la probabilità tra 0 e 1 a tutti gli altri eventi non prevedibili a priori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.